Allora, salve a tutti, sono il navettiere o UFO, come meglio preferite voi, comunque il nome è lì, sono qui per illustrarvi come sono riuscito a fare una sorta di scherzo al Telegram Ducato, se possiamo chiamarlo scherzo, perché insomma poi l'abadante non ha detto che non abbia detto la verità. Fatto è che appunto il soggetto, l'abadante, mi ha riferito di aver visto delle luci balenare sopra il cielo di Livorno dal suo terrazzo mentre era nella sua pausa lavorativa. Io mi sono subito interessato al caso, ovviamente l'abadante del mio nonno, e l'ho tempestata di domande. Una volta aver chiederito con l'abadante la dinamica dell'accaduto, arrivato a casa, guardando l'orologio, sorseggiando un po' di te, mi è ballenata un'idea, ho deciso che era l'ora di chiamare il Telegram Ducato. Bene, ho riferito tutto l'accaduto, volevo che questa questione venisse fuori, e si sono subito interessati al caso, tanto è che mi hanno persino richiamato loro. Ho fornito dunque tutti i dati, narrando la storia della dinamica, sotto però un altro aspetto, punto di vista, come se fosse stato io ad aver avvistato quel presunto UFO. Quei presunti UFO, perché sono due. Due, due. Ho, come dire, protetto e lasciato nell'anonimato l'abadante. Il Telegram Ducato, se è interessato al caso, mi ha addirittura richiamato, chiedendogli tutto di più, addirittura se altri parenti o altri conoscenti avevano visto, o in altre occasioni, o nella stessa occasione, fenomeni del genere. Come alcuni di voi sapranno sicuramente, ho avuto modo di raccontargli l'avvistamento della mia nonna, grazie alla quale ho anche il mio soprannome, ecco. Fatto sta che la sera stessa mi sono quindi accocumerato sul divano per poter vedere il notiziario del Telegram Ducato, e guardate un po' che notizie sono apparse. Allora, eccovi la diretta. Avvistamenti di oggetti anomali nel cielo di Livorno, nella zona della Scopai, a un 19enne, annotato nelle ore diurne all'orizzonte in direzione mare, due fonti luminose e sferiche con luci a forma di triangolo, separate l'una dall'altra e rotanti in direzione anti-orario. Un movimento che è durato pochi secondi, dopodiché gli oggetti si sono allontanati velocemente in un'altra direzione. E' la prima volta che mi capita di avvistare in questi oggetti, ha dichiarato il ragazzo, che in famiglia però ha avuto altri episodi di avvistamenti. La stessa nonna del giovane, agli inizi degli anni 70, ha avuto occasione di segnalare nella campagna di Monterra un punto luminoso fisso. A Pisa i ragazzi in consiglio... Allora ragazzi, questo video è una dimostrazione di come il Telegram Ducato sia cascato in questa sorta di sperimentazione scherzo. Magari era anche vero che la padante avesse visto queste luci balenare. Però, che so, ora mi vengo a pensare, ma se io chiamassi il Telegram Ducato dicendogli di aver visto uno dei quattro Mori a girarsi per le vie del centro di Livorno, oppure, che so, un tirannosauro cagare alla leccia. Ma vi rendete conto? Capace loro sarebbero stati in grado di inviare una truppa addirittura. E con questo è tutto, vi saluto, vi lascio ad altre esperienze alienanti e mi raccomando, state in guardia dalle notizie da dove esse provengano. Ciao, ciccioli!